Una grande vittoria, il Bolzano ha dimostrato di avere tantissimo carattere. È una bellissima parola, carattere fondamentale stasera, squadra che ha creduto, squadra che sia eccitata i tuoi compagni. Hanno creduto, quando loro hanno fatto 1-1 non c'era nessun panico, c'era calma. Quando loro hanno fatto 2-1 ancora i ragazzi hanno creduto e hanno lavorato. Hanno un obiettivo e loro vogliono arrivare su quello. Noi facciamo tutto adesso per giocare il meglio possibile. Purtroppo stasera abbiamo giocato contro una fortissima squadra, l'Inns, ma anche abbiamo giocato contro gli arbitri. Gli arbitri di sera, mi dispiace, è la prima volta di questo anno che dico una roba, ma per me era scandaloso quello che hanno lasciato andare e quello che hanno chiamato su di noi. Adesso il Salzburgo serve proprio questo Bolzano per andare a vincere in una pista difficile come quella dei Red Bulls. Red Bulls è la migliore squadra assoluta in campionato, hanno un talento che nessun'altra squadra va vicino, ma sono una squadra fortissima e noi dobbiamo credere. Abbiamo vinto qui in casa contro di loro, va bene che loro c'erano dei periodi che abbiamo sofferto contro di loro, ma la squadra adesso, cioè noi giochiamo il nostro gioco e dopo si vedrà. I ragazzi cominciano a giocare uno per l'altro come squadra, si vedrà martedì.